Ciao a tutti ragazzi e oggi parliamo dei nuovi Scarpa Phantom Tech Lo scarpone da alpinismo tecnico e cascate di ghiaccio di scarpa che ha tantissime tecnologie Adesso insieme li vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo dalla suola di questi Phantom Tech Qui troviamo una suola Vibram Durastep Una suola dall'ottimo grip, devo dire anche su quella che è neve, neve un po' gelata eccetera Ha un ottimo grip Anche su rocce si difende molto molto bene Quello dove senta un pochino è il fango ma anche perché non è il suo terreno ideale Devo dire una suola sicuramente duratura perché io l'ho utilizzata per tante escursioni ed è ancora perfetta E poi questa suola presenta la prima tecnologia di scarpa ovvero la Dynamic Tech Roll System Ovvero che la suola è collegata direttamente alla tomaia e costruita in un modo particolare Per dare una miglior calzata e anche una miglior camminabilità Ma di questo poi ne parliamo anche dopo quando vediamo la tomaia Devo dire comunque in generale suola Vibram che non si smentisce mai è sempre ottima Soprattutto anche su questo tipo di scarpone veramente tecnico Passiamo all'intersuola di questi Phantom Tech Perché qui troviamo un'intersuola che vi assicuro è veramente molto rigido È un ma se dovete fare degli avvicinamenti molto lunghi perché lì vi si stancherà molto il piede Ma non è uno scarpone pensato per fare degli avvicinamenti lunghi È un pro invece quando andiamo a montare il rampone Complici poi gli attacchi sul tallone e sulla punta per montare un rampone automatico Vi assicuro che davvero quando si monta il rampone questo scarpone cambia completamente E ne si sente tutti i benefici Anche quando andiamo a lavorare di punta con un rampone verticale su una cascata di ghiaccio Davvero si riesce a lavorare molto molto bene E soprattutto non fa stancare i muscoli della gamba Perché la sua rigidità ci dà veramente un'ottima base di appoggio Quindi davvero un'intersuola studiato molto molto bene Passiamo a tutta quella che è la parte superiore della tomaia Iniziando dal puntale Qui troviamo naturalmente un puntale estremamente rigido Cioè è roba che se ci prendete a calci le rocce non sentite alcun dolore Tutta la tomaia poi nella parte bassa è coperta da un bel fascione Che va sia a proteggere la scarpa Sia a darci comunque un ottimo sostegno anche nella parte più bassa Quindi devo dire anche da questo punto di vista studiato bene Tutta la parte della tomaia e della ghetta è realizzata con la tecnologia di Schuller È un tessuto che è molto resistente al taglio Questo l'ho apprezzato tantissimo perché con questo tipo di scarpone Anche se vi ramponate da soli non andrete a tagliare il tessuto Veramente molto apprezzato perché essendo poi uno scarpone pensato per stare il 99% del tempo con il rampone E visto anche il prezzo diciamo che se avessero avuto un tessuto facilmente tagliabile Non sarebbe stato il massimo Tutta la ghetta poi è laminata con una membrana H-Dry Che tiene all'esterno acqua ed è molto traspirante E la parte superiore è composta innanzitutto da un cordino da andare a chiudere Così da proprio avvicinare la parte finale della ghetta alla nostra gamba È presente inoltre il sistema recco nel maragurato caso in cui ci dovessimo perdere e chiamare i soccorsi E poi la zip per andare a chiudere la ghetta è idrorepellente IKK Non fa entrare l'acqua ed è veramente fatta bene Perché la si riesce a utilizzare facilmente anche con i guanti e comunque scorre molto bene Una chicca poi secondo me geniale è che sulla parte finale della zip c'è anche una piccola asolina Dove andare a infilare dentro il gancetto del pantalone per tenerlo bello tirato e evitare che ci entri la neve Davvero una chicca veramente semplice ma estremamente efficace Per quanto riguarda invece la parte interna vera e propria della scarpetta Innanzitutto ha un'imbottitura in Primaloft che ci tiene al caldo Devo dire mi sono trovato bene l'utilizzata a temperature anche sotto i meno 10 e davvero non ho avuto il piede freddo Poi naturalmente ci va dietro anche una buona calza Però dal punto di vista della termicità è fatta molto bene E poi è costituita tutta la parte interna da un nesoscheletro che va a stringere molto bene il piede Ci dà un'ottima stabilità e un ottimo sostegno nel momento in cui andiamo a fare delle cascate di ghiaccio Davvero studiata molto molto bene e soprattutto poi è tutto integrato con l'allacciatura Infatti l'allacciatura nella parte interna arriva quasi fino in punta È molto semplice andare a indossarli perché basta semplicemente infilare all'interno il piede Andare a tirare la prima chiusura posta sulla parte mediana del piede sul collo del piede È molto semplice davvero basta tirare i lacci questa si serra E poi nella parte superiore abbiamo due passalaci in cui finire completamente la nostra chiusura Questi lacci sono dei lacci molto morbidi È un ma soprattutto quando andiamo a fare degli avvicinamenti lunghi Perché tendono a slacciarsi però appunto non è uno scarpone pensato per fare degli avvicinamenti lunghi È un grosso pro invece quando andiamo a delle temperature molto basse Perché essendo così morbidi tenderanno a congelarsi di meno E avremo meno problemi nel caso in cui dovessimo riallacciarli A livello di tallone poi è un tallone abbastanza strutturato naturalmente Bello rigido comunque fortunatamente non è altissimo Nel senso che arriva all'altezza di uno scarpone normale Non è alto come tutta la ghetta e non dà fastidio Anche quando andiamo a fare a camminare a fare comunque un po' di avvicinamento Non ci dà problemi quindi anche il tallone è studiato molto molto bene Per quanto riguarda la soletta all'interno è una ortolite o term Sono quelle solette ortolite appositamente studiate per aisolarci dal freddo Devo dire funziona molto molto bene quindi è estraibile Ma io andrei avanti a utilizzare quella data in dotazione perché appunto funziona bene Per quanto riguarda invece la grandezza dell'avampiede Ha uno scarpone abbastanza stretto Questo è naturale Dovendo essere uno scarpone pensato per fare cascate di ghiaccio Nella parte anteriore è molto molto stretto per essere preciso Vi consiglio andate a provarlo perché veramente questo tipo di scarpone Ha solo senso provarlo e vedere come sta all'interno il nostro piede Arriviamo dunque a capire dove utilizzare questi scarponi a chi li consiglio A chi li consiglio sicuramente a un alpinista esperto Lasciate perdere se siete alpinisti alle prime armi Se fate delle vie semplici dell'ascensione 4000 o roba del genere Questi scarponi sono da utilizzare su dei percorsi estremamente tecnici Su dei canali belli ripidi, creste e anche quello che sono le cascate di ghiaccio Infatti sulle cascate di ghiaccio penso che siano dove veramente danno il meglio di sé Arriviamo dunque al prezzo di questi Phantom Tech Perché con tutte queste tecnologie naturalmente il prezzo non è indifferente Infatti parliamo di uno scarpone venduto a 670 euro sul sito di scarpa Online lo si trova attorno ai 600 euro Vale la pena? Secondo me sì Appunto se dovete andare a fare delle ascensioni veramente tecniche Avete bisogno di uno scarpone altrettanto tecnico E questo scarpa Phantom Tech vi aiuterà tantissimo nei passaggi più difficili e più tecnici Pesano poi solamente 800 grammi a scarpa Che comunque visto quanto sono imponenti e visto quante tecnologie hanno Sono veramente pochi Quindi sì io personalmente ve lo consiglio Quello su cui vi consiglio di fare attenzione E di valutare se siete un alpinista abbastanza tecnico Per il quale ha senso andare a fare questa spesa E detto ciò ragazzi Una speranza sia stato esauramente esaustivo Anche per questa recensione Vi ringrazio per aver guardato E noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.